La povertà è considerata troppe volte un problema lontano dalla nostra società. Per avvicinare i paesi sviluppati a questa grande piaga del nostro tempo, si è tenuto presso il maschio angioino la prima giornata del forum Società Civile, verso il 2010, anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione civile. Povertà ed emarginazione però sono presenti anche in Europa. Il 17% dei cittadini, infatti, dispone ancora di risorse limitate e non riesce a soddisfare le proprie necessità primarie. È necessario trovare una risposta collettiva, dunque, ed il forum rappresenta un'occasione per rinnovare l'impegno per rafforzare la giustizia e promuovere la solidarietà, valore fondante dell'Unione Europea. L'obiettivo dell'iniziativa è raccogliere le proposte della società civile, svilupparle e fare riflessioni riguardo agli obiettivi non raggiunti. Il tutto in vista di una nuova strategia di Lisbona che sia, lo si spera, una svolta per l'umanità intera. Presenti l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Giulio Riccio, e Lucio Battistotti, capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.